Nasce negli anni 70 perché con un gruppo di amici studenti nacque l'Associazione per la lotta contro le malattie mentali contati con Basalia e di lì abbiamo iniziato a muoversi per sensibilizzare questo problema che esisteva nei manicomi di allora. La mostra si intitola Dalla psichiatria alla salute mentale cambiando paradigma dalla mera terapia che a quel tempo sostanzialmente costituiva l'isolamento del paziente e l'arresto della società quindi questa dimensione asilare e custodialistica al fatto che la persona viene restituita alla società, alle sue relazioni. Cosa fate questo weekend? Ma io andavo alla mostra del centro salute mentale Wow una mostra ma cosa rappresenta? Rappresenta delle vecchie immagini del vecchio manicomio come era una volta i ragazzi del progetto Ali hanno proposto di fare delle immagini del centro di salute mentale come oggi Beh allora andiamoci Bene allora io sarò il primo ad andarci Perché la salute mentale riguarda tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti